Ciao a tutti, io mi chiamo Paolo Fornasier in arte Polyverse e sono un produttore, compositore, pianista e sound designer e questo brano l'ho composto nel 2015 e si titola Trist Vals l'ho composto in seguito agli attentati di Parigi per cui ho deciso di dedicarlo alle vittime originariamente sarebbe anche con l'orchestra e con delle linee di sintetizzatori però in questo estratto ve lo suono in piano solo grazie mille grazie mille grazie mille Grazie a tutti. Grazie a tutti.